raga c'è andata bene c'è andata di lusso in una giornata merdosa il napoli perde e siamo ancora davanti siamo ancora al terzo posto non riesco a gioire raga non riesco anzi vi dico di più sono solidale con voi napoletani mi spiace per voi perché come come noi state soffrendo perché in panchina avete un mediocre del cazzo un allenatore mediocre e quando hai gli allenatori mediocri questi sono i risultati raga vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un pollice in su al benzinero domani saremo in live 21 un quarto io vi aspetto tutti dobbiamo sfogarci ma scusatemi cardinale moncada furlani soprattutto furlani e cardinale cardinale tu sei uno di quelli che ha detto testuali parole a me non piace perdere furlani invece quello che ha detto puntiamo a vincere lo scudetto in questa situazione in questa situazione perché hanno stato esonerando l'allenatore perché continua c'è a me se mi piace vincere io sarei incazzato dei risultati lo manderei via stessa cosa furlani se io punto allo scudetto e mi trovo in questa situazione non potrò mai tenere i pioli non è che siete dei qua 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 dei parla parla poi poi quando c'è da mettere in mano al portafoglio perché ovviamente esonerare i pioli è mettere in mano al portafoglio non lo fate allora che cazzo parlate a fare attenzione io sono un estimatore sia di furlani che di moncada non ho condiviso qualche scelta del mercato nonostante ho riconosciuto che hanno fatto una squadra forte per me hanno ripeto hanno fatto una squadra forte ci sono i miei video ma io love to see che purisic non li avrei presi perché si rompevano sempre anche nel celsi però riconosco che sono due campioni risultati alla mano quando ci sono tutti il milan vince però poi si infortuniano o hai alle spalle altri campioni o se hai pobega crunic e quella gente lì non può andare da nessuna parte detto questo perché non avete i coglioni di prendere una posizione perché andate avanti a confermare questo allenatore dovreste essere straincazzati ma soprattutto dove siete è facile scaroni fare i selfie con cardinale quando si vince fare i fighi quando si vince col pg poi bisogna metterci la faccia anche quando si perde anche quando si arriva da queste settimane di figure di merda è lì che devi metterci la faccia dove siete non vi sento ragliare non vi sento ragliare non dite niente siete assenti ci sono i tifosi che vorrebbero sentire delle parole da parte vostra e voi siete muti davanti a tutti i soldi che guadagnate che cazzo ve ne fotte intanto state facendo anche una figura di merda perché grazie a pioli fate la figura di quelli che hanno speso 120 milioni stanno facendo peggio di maldini quando lo sappiamo tutti che abbiamo migliorato la rosa alla grande dovremmo essere lì a giocarcela con tutti ma grazie a quel coglione e al suo staff siamo siamo lì a faticare a faticare a strafaticare io non vi riesco a capire la gente vuole una posizione una presa di posizione tu confermi ancora più oggi però poi si va a parlare per capire perché di tutti questi infortuni naturale ovvio bisogna andare a parlare se lo confermi bisognerà cambiare sto trend perché sto trend è imbarazzante non ce l'ha nessuna squadra della serie a questo trend qui e bisogna prendere decisioni forti mandar via qualcuno deve saltare qualche testa ma voi il nome del bilancio ve l'ho già detto in un altro video non lo farete mai perché a voi vi interessa solo il bilancio voi parlate di vittorie parlate che non vi piace perdere ma poi non volete toccare il bilancio e le soluzioni ci sarebbero soluzioni pesanti che fanno male anche a me perché io conte non lo vorrei mai nella vita mai nella vita ma piuttosto di andare avanti così andrei a prendere conte ma ci vogliono 80 milioni a gennaio perché conte vi chiede due difensori per fare il 35 per fare il 352 ma soprattutto vi chiede una punta da 20 gol come a tre anni che vi chiedo io e voi quei soldi non li volete cazzare perché dobbiamo vincere il trofeo del bilancio per il secondo anno di fila allora prendetemi tudor come traghettatore ma solo come traghettatore almeno c'è i coglioni cubici poi a giugno si andrà a prendere uno tra sarri e tiago motta che sono i migliori che ci sono in circolazione visto che non potete permettervi club ma non ditemi raga ignazio abbatti con ibraimovic non ditemi queste cose abbiamo già provato in zaghi abbiamo già provato sido brocchi lo sappiamo già come va a finire abbiamo già visto pirlo nella juve senza esperienza non vai da nessuna parte non dite queste cazzate e questa società io lo so già cosa fa per cercare di tenere buoni tifosi terra pioli ma gli porterà ibraimovic la banante quello che gli metterà il pannolino la cremina a stefano pioli che accetterà questa situazione perché è un mediocre ed è il cazzo è attaccato al denaro che gli dà il milan perché se avessi i coglioni si licenzia se li portano ibraimovic ma lui farà così faranno così poi magari il milan grazie a ibra farà qualche vittoria tutti canteranno i coglioni pioli is on fire e invece sarà solo merito di ibra se arriverà qualcosa ma non cambia gli infortuni anche se arriva ibra ci saranno sempre bisogna cambiare qualcosa io mi aspetto una società più vicina ai tifosi una società più vicina ai tifosi mi aspetto è quello che noi vogliamo sia io che noemi perché siamo lei ride ma dentro di sé è incazzata come me è incazzata ieri ieri gli avrebbe gettato il pannolino pieno di merda in faccia a pioli noemi vero noemi e che cazzo diglielo quindi noi questo vogliamo io questo da tifoso società presente cazzuta cazzuta se vuoi vincere devi essere cazzuto come lo è marotta se no non si va a nessuna raga se no a quest'anno è già un anno buttato nel cesso buttato nel cesso eppure abbiamo ancora qualche obiettivo c'è la champions il passaggio del turno la coppa italia poi vediamo cosa fanno le altre perché poi settimana prossima c'è juventus inter qualcuno perde i punti ma non ci credo perché dobbiamo cominciare a vincere noi non dobbiamo guardare gli altri ma senza uno scossone ci sono due settimane uno scossone sarebbe fondamentale poi non vi dico che se facciamo lo scossone andiamo meglio ma peggio di così almeno proviamoci o no noi proviamoci dirlo che te proviamo se no vi sbatto il pannolino in faccia un'altra volta nulla raga era questo che io dicevo voglio una società che si faccia sentire dura e forte una società vincente che non può accettare assolutamente questa situazione o almeno io non l'accetto non ci sto mi sto mangiando il fegato il fegato con questa società che sono un sostenitore però tirate fuori i coglioni e cambiate qualcosa raga sempre forza mila ne iscrivetevi al canale non ci sto mangiando